Venite a trovarci! L'ospitalità dei ristoratori e l'ottima cucina dello chef sapranno conquistarvi Il ristorante La Locanda nel Loggiato vi accoglie in un antico palazzo del 1200 che si affaccia sulla principale piazza di Cortona Marco e Lara propongono piatti tipici della cucina toscana, preparati con materie prime e fresche di stagione, gustose specialità, frutto della fantasia e della tradizione locale La stessa cura riservata ai cibi la si riscontra nella Carta dei Vini, dove spicca la qualità della migliore produzione toscana Il ristorante dispone di una terrazza panoramica sulla piazza e sali interni per piccole cerimonie e ricevimenti Un ambiente curato e raffinato dove riscoprire le radici gastronomiche del territorio Ma dove è possibile anche assaporare i numerosi prodotti alimentari offerti dalla nostra penisola Venite a trovarci! L'ospitalità dei ristoratori e l'ottima cucina dello chef sapranno conquistarvi Per maggiori informazioni consultare il sito www.locandanelloggiato.it